Andrea Argento, Movimento 5 Stelle, seguita rinviata mercoledì, in commento. È stata una necessità del Sindaco che ha chiesto all'Aula, come avete visto tutti, per via di un impegno istituzionale, se non sbaglio in qualità di Sindaco della città metropolitana, quindi con impossibilità a delegare ad un altro componente della Giunta di allortanarsi e quindi di chiedere questa sospensione che poi è diventato un rinvio, visto comunque la non certezza dell'orario della ripresa dei lavori, visto che c'era tanto ancora da fare con diversi interventi in coda, è stato preferito insieme ai capigruppo di andare a riprendere i lavori in altro orario, più consona, una riapertura che sarebbe stata nelle ore serali per poter sviscerare tutto quello che ancora avevamo da scorrere. Un quesito, l'impegno era previsto, come mai si è deciso di fare proprio oggi una seduta così importante per le sorti della Giunta e della città? Ebbè, questo dovresti chiederlo a lui, sicuramente fossi stato io al suo posto, al netto che tutta la città conosceva quest'impegno importantissimo all'interno di quest'ava, all'interno di Palazzo Zanca, che si vota una delibera, per lui dirimente, anche per il prosepio stesso della sua esperienza da Sindaco, quindi comunque sapendolo prima avrebbe dovuto fare altre scelte oppure rifiutare l'invito qualora fosse stato possibile. Da parte mia io avrei proseguito oggi stesso per mettere un punto sin da subito a questa situazione e chiarire quelle che sono le posizioni di tutti i gruppi consigliari e dell'amministrazione stessa.